Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Saluto il nostro Presidente della Repubblica, onorevole Sergio Martarella, e tutte le istituzioni presenti, le maestranze e la nostra amata azienda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono particolarmente orgogliosa di presenziare alla cerimonia del Varo che a breve avrà luogo in questo stabilimento di Castellamare di Stabbia, dove ha preso corpo un altro gioiello dell'ingegneria navale nazionale. Nave Trieste è espressione dell'eccellenza nel settore della cantieristica e dell'alta tecnologia. Benedizione di nave Trieste Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.